Disturbo di fondo, senza QRM, niente, proprio pulito al massimo, la vostra voce è naturale, ok? Come se stiamo a un metro di distanza. Eh no, c'era bene, quello è il vantaggio dell'FM, lo sappiamo, lo sappiamo, quando è supportata dal segnale, è chiaro che la modulazione è molto molto più, come dire, più pulita, più fedele e quant'altro, vabbè, è scontato, va, è scontato, ok, vai, vediamo un po' se Pino ha ripreso, altrimenti riprendi tu, Tony, vai Pino. Avanti il brecco. Ehm, Mimmo, se sei tuo, aumenta qualcosa, che stiamo in FM, K, ciao Mimmo. Stai, stai in FM? Ah, stai in FM, sì. Ho capito, sì, c'è Ragnodoro da Monopoli, io in macchina, Mola di Bari Sud, e c'è Leonardo e Pino Ufo, sempre da Mola. Un attimo solo, Mimmo, anche voi facciate anche per i saluti, Ragnodoro mi dai un controllo preciso di segnale radio, di preciso, che sto verificando una cosa qua, sempre ovviamente con la base mobile, Mola di Bari Sud. Se mi dici per esattezza, quanto ti sto arrivando al tuo HF, da Mola di Bari Sud, e tutto rosso, che sto facendo una regolazione qua, sempre con la 5D di lato, ok? Sì, vai, Lino, Ragnodoro. RR, sì, è a fondo scala, non c'ho altro spazio per il fondo scala, e cosa ti devo dire? Sarà 9,50, 9,60, che ti devo dire? A fondo scala, ok? La radio è ottima, non ci sono problemi, Tony. Roger, Roger, positivo, dai, mi fa piacere, la base mobile funziona ancora, dai. Eh, vabbè, ehm, Roger, ok. Eh, facciamo andare di nuovo per Leonardo, per Mimmo, la Mickey Mouse, se lo ascoltavi meglio, e poi mi farà girare, dai. Roger, sì, ciao Mimmo, ben risentito, con la buonasera, ok Leonardo.